In Italia abbiamo una giustizia diversa che tutela il diritto di difesa, anzi noi italiani ci lamentiamo della lentezza della giustizia, io più che una giustizia lenta o veloce vorrei una giustizia che tuteli il diritto di difesa. Mi è stato vietato di avere le fotocopie del fascicolo del processo, espressamente, cioè agli avvocati difensori è stato vietato di dare copia degli atti agli imputati, io oggi non posso leggere un documento di questo processo, non posso andare nello studio del mio avvocato perché è andato a fare una lezione a Viterbo a Perugia, non si sa dove, comunque di fatto io non ho accesso agli atti che sono a sostegno dell'accusa.